Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Stefania o la Waffer Smell. Oggi voglio parlarvi di profumi che sto adorando, profumi che ho in collezione alcuni da un po' di tempo in realtà, altri nuovissimi che però insomma in questo periodo sto portando con una gioia particolare, che mi danno proprio il buon umore, che mi fanno sentire bene e che perciò devo assolutamente condividere con voi. Quindi se già non lo fate, se vi piace appunto questo tipo di contenuto, avere un contenuto profumato, io vi invito caldamente ad iscrivervi al canale e a seguirmi anche nei miei altri social, specialmente su Instagram dove sono estremamente attiva quasi ogni giorno e anche su TikTok se vi va TikTok, cioè veramente sono già impedita appena iniziato il video. Bene, parto con la prima fragranza che è una delle fragranze più virali del momento. Ecco, di questa ne ho già ampiamente parlato sia su Instagram che su TikTok, ma immagino che non tutti ce l'abbiano, di conseguenza ve ne parlo anche qui. Stiamo parlando di questo profumo fantastico, è Hair Confession di Lattafa. Non vedevo l'ora di provare questa fragranza che è veramente chiacchieratissima, ed è chiacchieratissima per un motivo, e ve lo rivelerò un pochino più avanti. Anche qui so che il pack divide gli animi, so che per alcuni è inguardabile, so che per altri invece è bellissimo, so che effettivamente è un pochino kitsch, ma come mi piace dire, come ho studiato, il kitsch è l'arte al di fuori dell'arte. Io lo trovo estremamente particolare, ma vi dirò, io lo trovo anche molto bello, tanto che lo lascio qui proprio nel mio mobiletto, perché lo trovo anche tra l'altro un oggetto d'arredo. Chiusa questa piccola parentesi, veniamo alle note che la caratterizzano. Allora, abbiamo Mystical e Cannella. Questa nota di Mystical non si sa che cosa sia. Una nota mistica che mi piace definire come una nota di latte di unicorno, perché non si sa veramente a che cosa si riferiscono. Nel cuore della fragranza invece abbiamo Tuberosa, Mahonia, il gelsomino, e nella base abbiamo Vaniglia, Fava Tonka e Musk. Questo profumo, ragazzi, per me è una sorpresa assoluta, un profumo fantastico. Allora, come vi avevo già detto, come avevo appunto descritto sia sul Reel di TikTok che su quello di Instagram, nei primi minuti la fragranza per me è lievemente alcolica. Ed è strano avere un profumo arabo, perché questo non succede molto spesso, però in questo caso lo è. Se superiamo questi primi minuti, il profumo diventa letteralmente una nuvola, ragazzi, di Tuberosa e Cocco. Non c'è il cocco elencato, ragazzi, fra le note, non viene detto, però è impossibile che qui dentro non ci sia. Io non so, forse questa nota mistica è latte di cocco, non è latte di unicorno, ma è un profumo fatto di Tuberosa e di cocco. Un profumo proprio che sussurra ebrezze di purezza. È veramente come se ci fosse questa Tuberosa tutta seducente che va dal cocco e prova in qualche modo a sedurlo. E ci riesce, perché questi due si uniscono e formano insieme qualche cosa che è fluido, che è latte o che è veramente anche a tratti burroso. È un profumo morbido. È un profumo proprio veramente che alleggia nell'aria, che vi avvolge. È un profumo che vi abbraccia. Non è un profumo che riscalda. È un profumo questo tenero. Ha un sillage che è pazzesco. Si appiccica su pelle benissimo e sta sulla vostra pelle tantissimo. Non è un profumo che proietta più di tanto. Quello no. Però comunque è un profumo che vibra nell'aria. È un profumo che si fa sentire. È fiorito, è lattonico e sa di cocco. Queste sono le note che io riesco a sentire maggiormente. Si sente anche una parte pulita data dal mask. Però su tutto, secondo me, quello che vi ho detto in precedenza è quello che prevale. È anche tanto tanto vanigliato. Fortemente vanigliato. Dunque è un profumo dolce. Ma è quel famoso dolce non stucchevole. È un dolce bilanciatissimo. Mi piace un sacco. Però arriviamo al punto saliente. Questo profumo, ragazzi, è decisamente ispirato a Blanche Bet di Liquid Imaginaire. Se vi piace quel profumo e che so che costa tantissimo e volete una valida alternativa, potete comprare direttamente lui. Non è un dupe al 90%, ma si sente che il DNA è quello di Blanche Bet. È più dolcino e lievemente più floreale. Perché diciamo che la tuberosa qui è più intensa. Si sente anche una certa sfumatura di gelsomino. Però gli assomiglia tantissimo. Ed è una cosa che non si può negare. Fantastico. Primo profumo che sto amando. Altro profumo del quale sono perdutamente innamorata, ragazzi, è un profumo di Astrofilen Stella. E sto parlando di Love is Lost. Qui abbiamo in apertura note di Neroli di Bergamotto. Nel cuore della fragranza invece abbiamo rosa, gelsomino e geranio. Nella base troviamo vaniglia, ambra e muschio di quercia. Il profumo si chiama Love is Lost, ovvero l'amore è perso. No. Questo, ragazzi, se voi avete perduto l'amore e lo indossate, questo vi fa ritrovare l'amore. L'amore per voi stessi, in primis, che è la cosa più importante. Perché è in assoluto la cosa più importante. Volersi bene, stare bene con se stessi. Però secondo me, se ve lo mettete, riuscite ad attrarre anche qualcun altro. Perché? Perché questo è un profumo che definire fantastico, secondo me, è decisamente poco. È una fragranza che ha un tripudio di gelsomino, unito a questa base di Neroli, che è assolutamente divino. Un profumo che crea una dipendenza olfattiva. Un profumo che sublima il profumo stesso della vostra pelle, che rassicura, grazie a questa componente vanigliata, dunque una componente dolce, che riscalda grazie a questo tocco ambrato, perché si sente tutto. È un profumo anche ambrato, questo. Ed è un profumo che, anche lui, è perfettamente bilanciato. Abbiamo rosa, perché c'è anche la rosa qui dentro. Abbiamo vaniglia e abbiamo Neroli. Queste sono le tre note principali che mi vanno a delineare la fragranza. È un bouquet floreale bellissimo. È un profumo prezioso, nel quale, appunto, Neroli, Rosa e gelsomino viaggiano all'unisono. So che alcuni lo paragonano a Love Don't Be Shy di Kilian. C'è qualche cosa in comune, perché, appunto, questo Neroli, questo fiore d'arancio, si sente tutto. Però qui è un profumo più adulto, più potente, meno sbarazzino, meno giovanile. È un profumo a 360 gradi, proprio più tondo, decisamente più tondo, più complesso e più strutturato. Che ha un sentore, cioè, che è praticamente perfetto. Se sentite il rumore, io vi chiedo scusa, ma, come sempre, sapete che ho i gatti che girano per casa, che ogni tanto arrivano a trovarmi. Lui è Love is Lost di Astrofine Stella. L'ultima fragranza del giorno, che sto indossando con grandissimo piacere, è un profumo, una nuova release di Federico Cantelli, Rose Cocktail. Chi mi conosce, chi è in questo canale da un po' di tempo, sa che io sono una grandissima amante del profumo, della nota della rosa. Questa è una nota estremamente diversa da quello che aspettavo fosse il profumo. E ora vi spiego il perché. Innanzitutto ci sono un botto di note. In apertura abbiamo albicocca, arancio, mango, pepe, pepe rosa, e abbiamo bergamotto, mandarino, limone e pompelmo. Scusate, adesso vi faccio vedere che cosa sta succedendo. Proprio in diretta e non taglierò nulla. Non taglierò nulla, perché io ho questo signore, cioè, vedete, questo piccolo cosetto, ogni volta che sto facendo un video, decide di venirmi a trovare e di fare il macello. Detto questo, torniamo a Federico. Ripartiamo da capo. Albicocca, arancio, mango, pepe rosa, bergamotto, mandarino, limone e pompelmo. In apertura. Nel cuore abbiamo assoluta di rosa, basilico, menta, gersomino e osmanto. Nella base della fragranza, invece, abbiamo violetta, moschie, vetiver e vaniglia. Diciamo che è molto di più di una rosa. E perché vi dico che è molto di più di una rosa? Perché sì, è vero che in prima battuta quello che sentite è il profumo della rosa, ma è decisamente un cocktail. Questa è una rosa policromatica, una rosa che ha più sfaccettature, più colori. Questa è una rosa che apre con un sentore estremamente limonoso, pepato, perché si sente la spezia, si sente proprio questa parte pungente data dal pepe, ed è una rosa, per me, verde. Se pensate a quella che potrebbe essere una rosa sensuale, calda, una rosa rossa, una rosa in piena fioritura, è decisamente quello che non troverete in Rose Cocktail. Perché questa è una rosa fresca, una rosa molto pulita, una rosa, per me, proprio verde. Nel senso che vi sarà capitato di avere delle roselline a casa. Ogni tanto, per ridare vita alla rosa, c'è la necessità di tagliare sotto il gambo. Quando voi tagliate quella parte di gambo di rosa, sentite proprio il profumo verde del gambo. Ed è quello che io riesco a sentire in questa fragranza. È una rosa, tra l'altro, che risente tantissimo di una parte fortemente aromatica. Ci sono al suo interno la menta e il basilico. Queste si fondono proprio all'unisono con quella che è l'essenza della rosa, con questo sciroppo di rosa. Ed è per quello che io riesco a sentire maggiormente quella che è la parte verde. Questa è una rosa che può piacere anche a chi non ama la nota della rosa. Ed è una rosa, poi, che è estremamente fruttata. Su tutto io riesco a sentire maggiormente quello che è il profumo dell'albicocca. Probabilmente perché, oltre al fatto che al suo interno c'è la nota dell'albicocca, è unito anche a quello che è il profumo dello smanto, che sappiamo essere piuttosto simile, non del tutto simile, però richiama quello che è un sentore fruttato, un sentore che sa di albicocca e di pesca. Dunque, se volete provare questa nuova release di Federico Cantelli, sappiate che è interessantissima. Non è la semplice rosa che potreste aspettarvi da un profumo alla rosa. No, è una rosa fruttata, estremamente verde, è una rosa aromatica ed è una rosa fresca, proprio brillante come rosa. Io, ragazzi, come sempre per oggi, direi che ho finito, ho le mie tre fragranze, a parte il piccolo intermezzo di Love, che sapete ogni tanto compare, vi chiedo scusa, però è il bello della diretta. Vi saluto, spero che sia una splendida settimana e ci vediamo veramente molto presto. Vi aspetto nei commenti e se vi va di sostenermi, lasciatemi un cuoricino. Ciao!